Qui in mezzo a chi ha fatto già una gran fatica perché sono partiti prima di mezzogiorno a piedi da Sassuolo e tra di loro ce n'è uno che lo fa da dieci anni. Dieci anni consecutivi non sono fatiche, è un qualche cosa che penso serva per celebrare anche il Sassuolo, infatti noi li ringraziamo tantissimo di questo attaccamento, è una specie di voto diciamo così. Se va sempre bene così, dieci anni consecutivi in Serie A speriamo che riescano a fare come minimo altri vent'anni di camminate. Sono cose importanti, piccoli segnali, però per noi sono significativi perché dimostrano l'attaccamento delle persone alla società, alla squadra soprattutto e credo che loro siano molto contenti anche del fatto che il Sassuolo sia l'espressione più bella forse dal punto di vista sportivo del territorio. Dieci anni consecutivi in Serie A penso siano un qualche cosa di inimmaginabile per una realtà come la nostra, però sono stati dieci anni in cui sicuramente sono state fatte grandi cose, grande impegno della proprietà, di chi lavora all'interno della società, dei calciatori che sono passati, che continuano a esserci, quindi noi siamo molto contenti e li ringraziamo per questo loro sforzo. Marco, state aspettando di andare a fare un piccolo lavaggio anche se non sarà una doccia completa perché effettivamente anche oggi è stata una gran fatica? Sì, è stata una fatica piacevole perché per noi è sempre una bella cosa festeggiare un altro anno in Serie A perché noi non ci abitueremo mai alla Serie A, quindi ogni volta va celebrato e speriamo di celebrare anche tante altre volte. Ci rinfrescheremo un po' perché dobbiamo essere pronti per la partita e dobbiamo vincere. Oggi in buona compagnia perché tu ne hai fatta qualcuna anche da solo. Sì, abbiamo fatto due o tre anni che ero da solo, poi negli ultimi quattro anni per fortuna ho sempre avuto compagnia, però oggi eravamo in sei, che è un ottimo numero e festeggiamo la prima donna che ha fatto in scioltezza il percorso. Noi siamo abbonati da dieci anni, però è la prima volta che veniamo a piedi. Quando ha cominciato voi eravate abbonati. Noi eravamo abbonati, però è la prima volta che veniamo a piedi e è lunga, è lunga, però ne vale la pena dai. Però avevi uno scudiero. Sì esatto, è valsa la pena e speriamo che porti bene per i prossimi anni.